Eccoci qui, buongiorno, proseguiamo con il tema della omnicanalità e di come il touch point fisico e il touch point virtuale non solo possono convivere, ma anche essere sinergici a rappresentare il tratto distintivo di un'azienda. In questo caso parliamo di Sisal e ne parliamo con il retail managing director Massimo Ingrassia e con l'online managing director Marco Tirso, quindi abbiamo virtuale e reale. Io partirei con la parte più tradizionale, con la parte reale, quindi con il dottor Ingrassia, chiedendogli quando nasce Sisal e quando scopre l'omnicanalità. Sì, infatti, probabilmente non tutti sanno che Sisal nasce nel 1945, quando tre giornalisti dell'epoca, tre giornalisti sportivi, Molo, Jäger e Dalla Pergola, decidono e si inventano Sisal da prima e poi un anno dopo, appena un anno dopo, la schedina del totocalcio. Da lì ad oggi sono passati 77 anni e devo dire che rimane la schedina un elemento di gioco che appassiona milioni di consumatori italiani, milioni di giocatori. Era allora già un'idea molto innovativa, basti pensare che erano anni difficili, erano gli anni dopo la Seconda Guerra Mondiale e buona parte degli introiti del totocalcio vennero utilizzati per ricostruire gli stadi italiani distrutti dalla guerra. E quello fu soltanto il primo passo. Oggi Sisal rappresenta una realtà omnicanal, ma di retail, perché prevalentemente vi parlerò di questo, poi Marco fare il resto, di oltre 36.000 punti vendita. 36.000 punti vendita è un network estremamente capillare. Vi basti pensare che oggi oltre il 70% degli italiani hanno la possibilità in meno di 5 minuti di raggiungere a piedi da casa loro un punto vendita Sisal. E in questi punti vendita potranno giocare il Suprena Lotto, ricaricare il loro conto online o fare una giocata di qualunque altro tipo. Quindi in un'ottica davvero molto vicina e omniciana, vicina ai consumatori. Questo era il 1946. Poi nel 1993, sempre innovando tanto, Sisal introduce sul mercato. Mi ricordo che nel 1993 internet era davvero agli albori in Italia. E noi introduciamo sul mercato, io non c'ero ancora, non ero in Sisal comunque. Introduciamo sul mercato il primo terminale del tutto elettronico, che è in grado di mettere in relazione e far connettere online gli oltre 16.000 punti vendita della rete di Allora. Il Totocalcio Allora quindi veniva gestito attraverso questo terminale, che chi avrà la possibilità di venire nella nostra sede di Milano potrà vederlo nel museo diffuso che abbiamo da poco inaugurato appunto nella nuova sede, che consentiva appunto di avere online i 16.000 punti vendita di Allora. Quattro anni dopo nasce il Super Enalotto e quindi questo dà un boost enorme alla crescita della rete di Sisal. E poi nel 2004 c'è un altro momento importante, perché nel 2004 Sisal entra nel mondo delle scommesse sportive con Matchpoint, Sisal Matchpoint, e nello stesso anno, e lì vedete che entra subito l'omnicanalità, l'approccio omnicanale, nel 2004 nasce anche Sisal.it. E nei nostri negozi già allora si poteva giocare una schedina oppure aprire il proprio conto online e quindi giocare anche in modo digitale. Io qua la fermo, Dottor Ingrassi, e passiamo quindi alla parte virtuale, Dottor Tiso. Quindi a un certo punto Sisal passa, oltre allo strumento, oltre al punto touchpoint fisico, passa anche online. I giocatori si sono trasferiti tutti online o sono rimasti anche sul punto fisico? I giocatori sono rimasti anche sul punto vendita fisico. Come diceva prima Massimo, nel 2004 il gioco e i giocatori diventano anche online, non cambiano pelle. Anzi, quello che noi crediamo è un'esperienza veramente omnicanal. I primi a fare questo tipo di passaggio sono stati degli scommettitori, che come accennava prima Massimo, sono state le persone che hanno cominciato ad aprire i loro conti di gioco direttamente sui nostri negozi e a vivere la loro esperienza di scommesse non più soltanto nel negozio ma anche fuori dal negozio. Noi crediamo che l'esperienza debba essere un'esperienza omnicanal e per noi omnicanal significa offrire la stessa esperienza di gioco ai nostri consumatori. Infatti il nostro sito ha la stessa interfaccia delle postazioni sales service dei nostri negozi, lo stesso programma loyalty per cui un nostro cliente accumula punti sia che faccia la propria esperienza online sia che faccia la propria esperienza sul mondo fisico, gli stessi prodotti allo stesso prezzo sia sul canale fisico che sul canale online e soprattutto lo stesso vantaggio per i nostri punti vendita a promuovere il gioco online e il gioco retail. I risultati ci hanno dato ragione. Come accennava prima Massimo siamo una realtà tradizionalmente retail che ci siamo buttati appunto nel digitale nel 2004 e oggi siamo i leader del mercato online in Italia. Mercato online, del gioco online che è un mercato estremamente competitivo, tra i più competitivi a livello mondiale dove sono presenti oltre 80 società tra cui i giganti dell'online a livello internazionale e noi abbiamo il privilegio di essere i market leader in questo contesto. Oggi la vostra clientela come si divide tra canale fisico e canale online? Allora a livello di spesa dei consumatori oggi il fatturato online vale circa un terzo del fatturato totale mentre il fatturato retail vale circa due terzi, mentre a livello di profitti siamo 50% e 50%. Tenga presente che a livello di mercato invece il mercato online valeva fino a prima della pandemia circa il 10% quindi in linea con quello che è l'incidenza dell'e-commerce, post pandemia vale circa il 20% mentre per noi Sisal vale circa un terzo del fatturato. Grazie. Volevo solo aggiungere che sono circa 10 milioni le persone che ogni anno giocano almeno una schedina al Suprena Lotto quindi riusciamo ad arrivare attraverso il nostro retail a circa 10 milioni di persone in Italia. E in che maniera riuscite a utilizzare in modo sinergico i due canali? E quindi arriviamo al tema dei dati perché poi alla fine immagino che questo sia il trade union tra i due canali. Vai sui dati? Chi vuole? Io innanzitutto volevo parlare, Marco parlerà dei dati, ma la prima cosa che facciamo in maniera estremamente sinergica e siamo stati costretti se vogliamo forzati da quello che è successo in tutto il mondo da marzo del 2020 è stato quello di sfruttare le competenze delle nostre persone dei negozi. Noi abbiamo oltre 600 persone che lavorano nei negozi e quindi quello di mettere queste persone al servizio della digitalizzazione dei consumatori italiani. Abbiamo formato a distanza le persone. Quando le aziende mettevano le persone del retail in casa di integrazione straordinaria noi abbiamo richiamati al lavoro e gli abbiamo insegnato come si potesse fare caring telefonico e abbiamo fatto chiamare circa 10.000 consumatori a settimana per far sì che potessero avvicinarsi anche le persone più lontane se vogliamo da un mondo più prettamente digitale che oggi però è una realtà assoluta. Quindi da un punto di vista di persone questo è quello che abbiamo fatto, da un punto di vista di dati, lascio la parola a Marco così ci dice. Quindi avete creato di fatto un nuovo canale di trasmissione di comunicazione con i vostri clienti in quel momento? Abbiamo amplificato un canale che già esisteva perché le nostre persone nei negozi hanno sempre sviluppato l'omnicanalità nei confronti dei clienti dando servizio e dando supporto appunto a giocatori omni channel. Abbiamo però amplificato enormemente perché per il 100% del loro tempo hanno potuto dedicarsi appunto a questo tipo di attività. Sui dati per quanto riguarda il gioco online, il gioco online è legato a un conto di gioco per cui possiamo conoscere tanto dei nostri consumatori. Per quanto riguarda invece il gioco retail riusciamo a raccogliere anche lì parecchie informazioni grazie all'utilizzo della carta loyalty. Quello che cerchiamo di fare con i nostri dati è sempre nel rispetto della privacy dei nostri consumatori e anche delle preferenze che ci accordano in termini di profilazione e comunicazione è quello di garantire un'esperienza che sia sempre un'esperienza positiva. Cerchiamo di utilizzare i dati davvero per creare valore aggiunto e non fastidio o senso di controllo ai nostri consumatori e ai nostri clienti. Anche per creare nuovi giochi utilizzate i dati? Assolutamente, raccogliamo veramente tanti feedback dai nostri clienti. Quello che cerchiamo di fare è analizzare i comportamenti dei nostri consumatori, raccogliere feedback costantemente su quello che facciamo, sui giochi che offriamo, sulla esperienza di gioco che garantiamo in modo tale da assicurarci che il livello di soddisfazione dei nostri clienti sia sempre molto alto. In particolare utilizziamo i dati per attività di caring e quindi quando ci accorgiamo per esempio che un giocatore è stato particolarmente sfortunato in un certo periodo interveniamo con azioni di caring supportate grazie al personale retail e quindi offrendo anche quel calore umano che il digitale non riesce a garantire. E se il giocatore invece voi vi accorgete che le abitudini di gioco di un giocatore insomma sono un po' eccessive, riuscite a intercettare anche comportamenti sbagliati di gioco e a intervenire in qualche modo? Certamente, questa per noi di Sisal è una priorità, è la priorità aziendale. Il tema del gioco sostenibile, della sostenibilità per noi è fondamentale. Quello che cerchiamo di fare è analizzare i comportamenti dei nostri clienti, verificare quando il comportamento è un comportamento normale e sano e quando invece il comportamento tende a essere un comportamento deviato verso un eccesso di consumo. Quello che proviamo a fare è riportare il nostro cliente all'interno di paletti di gioco regolare, di gioco sano. Faccio un esempio per essere un po' più concreto. Noi mettiamo a disposizione dei nostri clienti quello che chiamiamo il limite di spesa. Sostanzialmente il cliente quando si registra deve impostare un limite di spesa massimo per quanto riguarda il gioco che i nostri sistemi rispettano e quindi il giocatore non può spendere più di quella cifra. Ora che succede? Che se un nostro consumatore ha una spesa media diciamo di 25 euro a livello mensile ma ha un limite di spesa che è di 200 euro, 300 euro, questo significa che quel limite di spesa è inefficace, rischia di non essere efficace nel momento in cui il cliente deve avere un eccesso di consumo. È come se uno avesse la cintura di sicurezza troppo lasca. Nel momento dell'incidente non funziona. E come fate a stringerla? Allora quello che facciamo è come dire invitiamo il nostro consumatore a stringere la cintura di sicurezza e quindi a riportare quel limite di spesa verso un limite che sia vicino al suo comportamento di spesa regolare. Questo per prevenire situazioni di eccesso di consumo perché nel momento in cui si va verso l'eccesso di consumo poi intervenire diventa sempre più complicato oltre al fatto che poi c'è un danno per il nostro cliente, la sua famiglia, della società. E quindi vogliamo assolutamente far sì che il gioco resti un gioco, un'esperienza di divertimento, sempre più coinvolgente grazie anche alle nuove tecnologie. In questo senso stiamo lavorando molto sul tema di realtà aumentata, realtà virtuale, metaverso perché questo tipo di tecnologie veramente amplifica l'esperienza di gioco. E' a questo che volevo arrivare in conclusione, al metaverso, l'ultimo dei canali, dell'omnicanalità di cui appunto le aziende si stanno dotando. Per voi che cosa significa iniziare a stare sul metaverso? Che cosa ci è andato a fare? Andremo a offrire un'esperienza nuova, andremo a offrire un'esperienza nuova ai nostri giocatori in un'altra realtà. L'omnicanalità sarà tendenzialmente lì, si svolgerà per molti aspetti lì. Già oggi succede in alcune poche realtà, anche in Italia lo sappiamo, è un futuro che si sta delineando, non è ancora del tutto delineato, però è certamente un futuro prossimo, molto vicino, non è più di quanto ci immaginiamo. Quindi un canale che incrocia in un certo senso virtuale e fisico, non c'è il rischio che venga cannibalizzato il canale fisico o il canale attuale, il canale online, offrendo ai vostri giocatori un'esperienza di metaverso? In che maniera combinate tutto questo? Ma come abbiamo fatto anche in realtà agevolando e sfruttando la tendenza naturale, se vogliamo, dei consumatori a muoversi e a giocare più online oggi rispetto a ieri? Però se già pensiamo a cosa è successo negli ultimi due anni dall'inizio della pandemia, scusate se ritorno sempre lì, ma ha rappresentato un momento di rottura estremamente importante rispetto alla continuità che c'era prima, quindi c'è un prima e c'è un dopo. Ecco, il mercato retail allora valeva il 90% del mercato dei giochi complessivo, oggi a distanza di due anni vale l'80%, quindi l'online ha raddoppiato il suo peso, il retail è passato dal 90% all'80%, quindi è un cambiamento enorme? Sì, enorme. Però è anche uno sbocco naturale. Però è anche uno sbocco naturale, è la normale evoluzione delle cose, anticiparla ci rinforza, ci fa offrire ai nostri clienti un servizio migliore sicuramente. Dottor Tiso, in conclusione. Sì, no, certamente l'esperienza, vogliamo che sia un'esperienza omni-channel e anche oggi noi offriamo ai nostri consumatori online delle esperienze di intrattenimento all'interno dei nostri punti vendita fisici. Li chiamiamo, li coinvolgiamo, vogliamo che davvero l'esperienza online non diventi un'esperienza di isolamento, perché questo poi, come dire, rischia di diventare un po' problematico da un punto di vista dell'esperienza di gioco, ma vogliamo che rimanga un'esperienza sociale. Quindi anche il metaverso poi alla fine vedrà il combinarsi sinergico dell'esperienza digitale, dell'esperienza tecnologica con l'esperienza sociale e dei nostri negozi. Vogliamo che l'esperienza di gioco, come dicevo prima, resti un'esperienza positiva ad un costo che rimanga sostenibile nel tempo per i nostri clienti. Va bene, io ringrazio il Dottor Tiso e il Dottor Ingrassia di Sisal e adesso passo la parola Edoardo Vigna. Grazie.